Gregorio Angelucci, ideatore di Rustico, un singolare gioco da tavola. Gregorio, come ti è venuta questa ispirazione, questa idea e perché? Allora, nove anni fa sono tornato per un Natale, per le feste natalizie, dalla Germania, dove ho lavorato per tanto tempo. Un vecchio amico, in una di queste serate natalizie, rispolvero uno di questi vecchi giochi di società, dove ci si giocava quando erano studenti, quando si era più giovani, così si aveva anche più tempo perché questi giochi durano ore. Nell'euforia della serata, pure perché ero stato all'estero per tanto tempo, tornando comunque con un sentimento di nostalgia di questa regione, dove sono nato e cresciuto, allora ho pensato di sviluppare un gioco dedicato proprio alla regione. Il gioco è uno di quei tanti giochi di società, di strategia, dove si gioca con dadi, con carte e si deve raggiungere un obiettivo che è tenuto segreto per ciascuno dei giocatori. Come siamo in Abruzzo, ecco, siccome questo tabellone rappresenta l'Abruzzo, ho pensato di fare una cosa simpatica mettendo come pedine per la conquista dei territori, nel mio gioco si chiamano terre, usare pedine a forma di trattore, cioè giocare praticamente con i trattori. Sei stato accusato però di plagio per questa idea da un'importante società che è titolare di un altro gioco da tavola. Loro si lamentano, vorrebbero comunque farmi chiudere, almeno in questa forma. Dicono che la mia invenzione porti in confusione un cliente che pensa di comprare il loro prodotto mentre sta comprando il mio. Tutte le parti del gioco nella mission, innanzitutto, io non vedo nessuna ombra di questo gioco dal quale magari mi potrei essere ispirato come da tanti altri giochi che sono di tattica, di fortuna, con i dadi. Cioè è un normalissimo gioco di società come tanti, quindi non vedo dove io abbia plagiato, sinceramente. Dove poi anche loro che mi accusano di questo hanno ripreso il loro gioco da un altro, più antecedente, e lo hanno fatto diventare poi quello che è adesso. Loro chiedono di cambiare il luogo. Per me, cioè, il luogo non si dovrebbe toccare, anche perché già sei anni fa registrai una prima edizione. Loro, che a quell'epoca non c'era la Spin Master, a quell'epoca c'era l'editrice giochi, quindi loro mi intimarono di chiudere, di cancellare il luogo, e io lo feci. E ne ho rifatto un altro, e questi altri adesso, che nel frattempo, dall'anno scorso, hanno i titoli del loro prodotto qui in Italia, detengono quel titolo, vengono a dirmi che devo chiudere. Quindi, io una volta l'ho fatto, spaventato, pensato, è una multinazionale, questi che mi fanno passare i guai. La seconda volta non l'ho fatto più, anche perché ci ho messo tante energie per fare una cosa, non vedo perché loro debbano venire da me e intimarmi di fare quello che vogliono loro.